Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A11 in direzione Firenze è chiusa l'area di servizio di Migliarino Sud per lavori. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Sulla statale 67 Toscor Magnola ha chiuso per lavori il tratto tra l'incrocio Pontassieve statale 69 e l'incrocio per la Rufina in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!